sempre ritmo anni novanta e finalmente al telefono con noi abbiamo Jacopo e Gabriele by Mix4U e la ragazzi. Panettone 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 ma ci rendiamo conto come si fa a vincere il pandoro? Panettone in vantaggio. Vai col panettone. No no io sono un pandoro eh. Aia allora pareggio. Che che roba ragazzi faremo un po' una stima. Vogliamo ringraziare per la botta di trucci che ti è stata data. No Tamarri che cos'era? Tamarri Tamarri Tamarri. Vabbè ma il nostro contesto ci sta. No scusate eh vi do un consiglio ascoltate poi nell'anno nuovo eh dalle diciannove alle venti il martedì sera il Galli perché ha delle perle anche lui che non sono. Noi siamo solo Tamarri ma cioè non è che. Mi è rimasta impressa quella canzone dell'altra sera che cos'era? Ma la conoscono anche loro eh il pagante minchia frate faccio after la conoscete sì? No quella non va bene. No allora premetto che io sono molto più Tamarro di Gabriele e ovviamente faccio after cioè scusatemi ma pagante tutta la vita. Ecco bravo bravo bravo. No perché qua si è stupito cinghiali eh una canzoncina così normale. Sì sì no per carità ma tu la presenti sotto stile funky o jazz allora io così. Allora ragazzi eh chiudiamo con la la prima parte diciamo così di non solo dance con il mix for you per riprendere poi non so neanch'io se riprendere già il due fare il due il tre poi di no festa poi di no il sette. Ma fatelo subito dopo la Befana. Subito va Befana. Sì sì vabbè poi ve lo farò sapere nelle pagine giuste e anche sul sito di Radio Vertigo One. Allora a parte che allora facciamo gli auguri di buon Natale anche a voi tanto per cominciare. Esatto grazie anche noi vogliamo ricambiare gli auguri sia per voi ovviamente dello staff e sia per tutti gli ascoltatori che sono sempre più numerosi vedo. Sì sì. Abbiamo visto abbiamo visto anche qui dal server numerosi collegamenti. Beh a Natale. Sì sì sì. E per Natale ci facciamo un regalino da soli ovvero per favore cliccate mi piace alla nostra pagina Facebook appena creata. Lo so ho visto il messaggio che mi hai mandato che avete appena creato la pagina nuova su Facebook quindi ragazzi andate a cliccare mi piace e tra poco poi troverete anche il link su Radio Vertigo Uno punto com. Certo. Cosa ci presentate oggi? Grazie. Questo è proprio il più bel regalo di Natale che ci poteva arrivare da voi dalla radio. Grazie mille. Vici raccontateci oggi cosa ci fate ascoltare. Allora oggi c'è tutto perché comunque iniziamo piano e poi arriviamo alla fine che con la canzone Natalizia quindi siamo a posto. Cosa hanno detto? Molto figo il mix di oggi. Molto tamarro. Ha detto che arriva anche alla canzone Natalizia. Molto tamarro. Allora lo dedichiamo al Galli così almeno. Ci sto dentro una cifra. Dedichiamolo al nostro amico di Tamar Raid. Bravo bravo. Bene ne approfittiamo approfittiamo del del vostro mix for you che ricordiamo che sempre all'interno di non solo dance ogni giorno dalle due alle tre all'interno di non solo dance c'è questi sei barra otto minuti come vedo oggi di di mix di quattro barra cinque brani mixati sempre nuovi sempre con vari generi quindi collegatevi poi in futuro perché Gabriele e Jacopo hanno ancora tanto tanto da raccontare da proporvi. Noi ne approfittiamo per bere un goccio d'acqua magari anche un caffè e ascoltandoci il mix for you by Gabriele e Jacopo. Possiamo lanciarlo? Yes buone feste. Ciao. Buone feste. Buone feste. Anche a voi. Grazie ragazzi. Ciao. 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 Muzzi. Io però ti volevo vedere col cappellino di Babbo Natale un po' come il Davila l'altro giorno. No no ma io devo saltare sul divano poi perdo il cappello. Ah giusto ricordiamolo sempre l'hashtag ecco che l'abbiamo lanciato noi quindi. Assolutamente. Con l'anno nuovo ci diamo dentro. Va bene raga. Ok. Buone feste. Buone feste. Ciao. Ciao anche a voi. Mix for you ragazzi. Ciao. 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 Ciao.